Aiuto! Il grasso mi rincorre e non c'è verso di sfuggire! E tu corri più forte, no? Ma ci ho provato in tutti i modi, in tutte le palestre, con tutte le diete, ma lui mi raggiunge sempre! E ci credo! Ormai la dieta è roba preistorica, qui ci vuole un nuovo approccio. Basta rinunce e privazioni che poi ti lasciano svuotata, delusa, frustrata al primo sgarro. Le donne che dimagriscono con il mio metodo non solo perdono peso velocemente, ma sanno come concedersi gli sgarri e si sentono vitali, appagate e piene di energia. E quale sarebbe il tuo segreto? Bisogna cambiare testa! Se usi il giusto mindset puoi creare una buona sinergia di abitudini salutiste che sbloccano il naturale potere bruciagrassi del corpo. E poi giusto per restare in tema bisogna lavorare sul secondo cervello, è l'intestino. Per saperne di più ti aspetto nel video training gratuito che farò il 10 maggio.